Ciao, sono Luca Manelli e in questo video tutorial voglio spiegarti 12 sistemi per poter andare a modellare le coperture con Archicad. Andremo ad utilizzare principalmente lo strumento falda e in alcuni casi anche lo strumento shell. In questo modo spero di riuscirti a dare una serie di soluzioni che puoi andare ad adottare per la creazione delle coperture all'interno dei tuoi progetti. Se vuoi poi approfondire questo argomento ho creato una playlist dedicata proprio alla creazione delle coperture con Archicad. Bene, ora possiamo iniziare il tutorial con la creazione del tetto a falda unica. Una costruzione semplice che però è alla base dell'utilizzo dello strumento falda. Iniziamo con la creazione del tetto a falda unica. In questo caso vado ad utilizzare lo strumento falda e scelgo all'interno della palette delle informazioni la geometria piano singolo. In questo modo andrò a creare una sola falda. Per poter andare a creare un tetto a falda unica la prima linea che dobbiamo inserire è la linea cardine che determina la quota del tetto. La quota della linea cardine la si va a impostare all'interno della finestra impostazioni all'interno di questo box. In questo caso è impostata un metro rispetto al piano ospite. Nel mio caso il piano 2, quello dove andrò a tracciare il tetto. Per quanto riguarda il materiale da costruzione vado ad utilizzare un materiale generico. Infatti la struttura è una struttura base che utilizzo e non una struttura composta però il tetto può essere anche una struttura composta. E per quanto riguarda il taglio sul bordo ho scelto di utilizzare un taglio verticale. Prima di iniziare a disegnare vado a modificare anche l'inclinazione della falda. Come impostazione di default ho 45 gradi, vado a impostare 25 gradi. Posso cambiare l'unità di misura dell'inclinazione tra gradi e percentuale andando a fare clic su questo pulsante. Una volta fatte queste scelte confermo con ok. Ora la prima linea che devo andare a tracciare è la linea cardine per cui vado a determinare la quota dell'imposta della falda. Nel mio caso la faccio coincidere con l'interno di questo muro per cui faccio due clic in modo tale da identificare il tracciamento della linea cardine l'occhio mi permette di capire da che parte deve crescere la falda. Io la voglio far crescere verso l'interno di questo rettangolo che va a simulare un edificio. Faccio un clic e ora posso disegnare il perimetro della falda. Nel mio caso è un perimetro rettangolare. Al secondo clic ho inserito la falda. La posso vedere perché viene visualizzata la linea cardine e poi se mi posiziono toccando il bordo della falda oppure all'interno della falda posso vedere che la falda può essere selezionata. Come puoi vedere la falda è stata inserita lungo il bordo esterno del muro così come l'ho disegnata. Per avere un offset in questo caso un offset su tutti i lati non devo far altro che andare ad agire sul vertice. Faccio un clic. Dalla pet palette vado a selezionare il comando offset di tutti i lati e vado a digitare una distanza per identificare l'offset. Nel mio caso 60 centimetri. Confermo con invio. Visualizziamo in 3d quello che ho fatto. Ho creato un tetto a falda unica. Ora per fare in modo che i muri si vadano a connettere con la falda non devo fare altro che andare a selezionare tutti i muri. Li vado ad alzare in modo tale da andare al di sopra della quota della falda almeno della quota più alta. Poi vado a selezionare muri e falda clic e con il tasto destro e vado a connettere muri e falda in modo tale da tagliare gli elementi alla falda shell. Automaticamente Archicad andrà a modificare i muri e con questo comando andremo automaticamente a togliere i muri al di sopra della falda. In questo modo abbiamo creato e completato un tetto a falda unica. Ora abbiamo visto alcune impostazioni della falda. Adesso non le andrò più a ripetere per tutti gli altri esempi. Andrò a utilizzare sempre le stesse impostazioni però varierò il metodo geometrico di inserimento tra il metodo geometrico a piano singolo e il metodo geometrico multipiano. Vado a disegnare ora un tetto a due falde. Per poterlo disegnare vado come prima cosa a selezionare il metodo geometrico. Nel mio caso per poter creare un tetto a due falde vado a selezionare il metodo multipiano. Per quanto riguarda il metodo di costruzione posso fare clic su questo pulsante e vado a selezionare questa icona che mi permette appunto di creare in automatico un tetto a due falde. Una volta date queste impostazioni possiamo controllare all'interno della finestra impostazioni la quota d'imposta per cui la quota della linea cardine. nel mio caso la farò coincidere con la perimetrale interna dei muri. Il materiale da costruzione utilizzato per il tetto in questo caso è un materiale unico perché utilizza una struttura base. Abbiamo lo spessore della struttura base e l'inclinazione. Una volta date queste impostazioni confermo con ok e ora sono pronta a tracciare. La linea cardine come ho detto la faccio coincidere con l'interno della perimetrale. Vado a disegnare il rettangolo che corrisponde appunto alla perimetrale. Faccio un secondo clic e automaticamente Archicad va a disegnare il tetto a due falde. All'interno della finestra 3d ho la possibilità di visualizzare il tetto. Per poter adattare i muri basterà andare ad alzare la quota dei muri in modo tale da superare la quota del tetto. Selezionare il tetto. In questo caso il tetto è un'unica entità non è una singola falda ma quando seleziono vado a selezionare tutte le falde che lo compongono proprio perché ha una geometria multipiano. Faccio clic con il tasto destro e vado a richiamare il comando connetti. Taglia gli elementi alla falda shell. Cancella parte. In questo modo ho provveduto ad adattare i muri alla falda. Questo tipo di adattamento è molto interessante perché alla variazione di una qualsiasi parte del tetto ad esempio vado a modificare l'inclinazione la vado a impostare a 28 gradi confermo con ok automaticamente i muri fino alla loro altezza massima si andranno ad adattare alla falda. Per disegnare un tetto a due falde asimmetriche la procedura è identica al disegno di un tetto a due falde. Per cui dopo aver impostato lo strumento falda il metodo geometrico che vado a utilizzare è multipiano con un metodo di costruzione a due falde vado a disegnare il tetto. Una volta effettuato il disegno del tetto ho la possibilità di selezionare il tetto e poi andando a fare clic sulla linea di colmo ho la possibilità dalla pet palette di andare a selezionare il comando trascina spigolo orizzontale. Questo mi permette di andare a modificare la posizione della linea di colmo. Automaticamente anche il tetto si andrà a modificare a livello geometrico. Se visualizzo in 3d quello che ho fatto posso vedere che ho disegnato un tetto e poi ho modificato la linea di colmo. La stessa operazione che ho fatto sulla linea di colmo la posso andare a fare anche all'interno della finestra 3d. All'interno della finestra 3d ho la possibilità sia di muovere la linea di colmo in modo tale da creare appunto due falde asimmetriche oppure andando ad agire sempre sulla linea di colmo la possibilità di andare ad alzarla o andare ad abbassarla in base alle esigenze di progetto. Poi come abbiamo già visto basterà andare a selezionare i muri andare ad alzare i muri selezionare la falda clic con il tasto destro e andare a connettere muri e falda. In questo modo abbiamo completato il tetto. Vediamo ora come poter procedere a disegnare un tetto a falde su pianta croce. Nella realtà possiamo procedere in due modi. Possiamo andare a disegnare l'intera perimetrale e Archicad automaticamente andrà a disegnare il tetto oppure disegnare due tetti e andarli a intersecare. La procedura sicuramente più veloce è quella di disegnare in questo caso l'intera perimetrale. Per quanto riguarda le impostazioni devo andare a utilizzare le impostazioni della geometria multipiano. Automaticamente quando utilizziamo la geometria multipiano viene inserito anche l'offset. L'offset viene sempre calcolato rispetto alla posizione della linea cardina in pianta. Per cui con 80 cm impostato adesso la linea cardina se la faccio coincidere con la perimetrale interna vuol dire che negli 80 cm ho anche lo spessore del muro. Per cui devo sempre fare attenzione a questo valore in base appunto alla posizione della linea cardina. Una volta date le impostazioni al tetto posso confermare con ok. Per quanto riguarda il metodo di costruzione devo andare a selezionare quello a copertura complessa. Una volta selezionato posso utilizzare la bacchetta magica posizionarmi all'interno della planimetria posso vedere che automaticamente Archicad visualizza il disegno in pianta del tetto. Faccio un click e posso vedere che Archicad ha già disegnato il tetto. Se visualizzo la costruzione all'interno della finestra 3d posso vedere che il tetto è stato già disegnato. Come abbiamo già visto ho la possibilità di connettere i muri alle falde in modo tale da poter ottenere il tetto su pianta croce. Nel caso in cui una delle parti del tetto non ha la falda ma deve avere il timpano ho la possibilità di andare ad agire sul tetto, fare click sulla linea cardina nel lato che voglio andare a modificare. Dalla pet palette vado a selezionare questo comando che mi permette di andare a definire delle impostazioni personali per quanto riguarda questo piano. Nel mio caso al posto dello spiovente voglio il timpano con l'inclinazione a 90 gradi per cui è perfettamente verticale. Confermo con ok e automaticamente posso vedere che la falda è stata eliminata e al suo posto abbiamo un timpano. Come puoi vedere in questo caso il muro si adatta fino alla sua quota massima per cui dovrei in teoria andare a selezionare i muri andare ad alzare la quota dei muri in modo tale da andare a riempire lo spazio vuoto all'interno del timpano. Vediamo come poter ora disegnare un tetto a padiglione. L'operazione è particolarmente semplice anche perché è un'operazione che Archicad con la geometria multipiano va a realizzare in automatico. Per quanto riguarda il metodo geometrico vado ad utilizzare appunto la geometria multipiano. Per quanto riguarda il metodo di costruzione vado a selezionare questo comando che mi permette appunto di andare a creare un tetto a padiglione. Una volta definite queste impostazioni e logicamente avendo definito già in precedenza l'impostazione della falda vado a disegnare il tetto in pianta. Vado sempre a far coincidere la linea cardine sull'interno del muro. Vado a disegnare il rettangolo in questo caso al secondo clic posso vedere che Archicad è andato già a disegnare il tetto a padiglione. Anche in questo caso non devo fare altro che andare a connettere in modo tale da connettere i muri con le falde. Per disegnare un tetto a mansarda la base di partenza è un tetto a padiglione. Per cui utilizzando il metodo geometrico multipiano e il metodo di costruzione rettangolare padiglione vado a disegnare il tetto andando a far coincidere la linea cardine sull'interno della muratura. automaticamente Archicad è andato a disegnare il tetto a padiglione. Spostiamoci all'interno della finestra 3d perché in questo caso risulterà molto più semplice capire le operazioni che andiamo a fare. Ora non devo far altro che andare a selezionare il tetto realizzato. Vado ad aprire la finestra impostazioni e vado a lavorare all'interno del pannello geometria multipiano. La geometria multipiano mi permette di andare a inserire più piani di falda. Nel nostro caso ne servono due per cui vado ad aggiungere un piano di falda al di sopra di quello presente e ora vado a impostare le pendenze. Per quanto riguarda il primo piano di falda vado a impostare una pendenza pari a 60 gradi. Per quanto riguarda il secondo livello di falda vado a inserire una pendenza pari a 30 gradi. Ho fatto queste due modifiche all'interno della finestra impostazioni. Confermando con ok possiamo vedere che Archicad è andato a modificare la geometria del tetto ed è andato a creare un tetto a mansarda. Anche in questo caso basterà ora selezionare muri e falda e andarli a connettere in modo tale da far aderire i muri al di sotto della falda. Vediamo come poter andare a creare ora un tetto a mansarda con testa a padiglione. Il metodo di costruzione è molto simile a quello che abbiamo visto con il tetto a padiglione per cui vado a selezionare il metodo geometrico multipiano andando a selezionare l'inserimento di quattro falde. Vado a disegnare in pianta il tetto e ottengo un tetto a padiglione. Mi sposto ora all'interno della finestra 3d, seleziono il tetto, apro la finestra impostazioni, vado a lavorare con i livelli di falda. Ne vado ad aggiungere uno al di sopra di quello esistente, imposto un'inclinazione pari a 60 gradi per quanto riguarda il primo livello e a 30 gradi per quanto riguarda il secondo livello. Confermo con ok. Abbiamo ottenuto un tetto a padiglione. Ora per poter andare a eliminare le due falde sulle teste non devo far altro che selezionare il tetto, fare clic sulla linea cardine, vado a selezionare impostazioni piano personale e vado a selezionare timpano al posto di spiovente. Confermo con ok. Possiamo vedere che il primo livello di falda è stato eliminato. Ora mi sposto sull'altro lato, vado sempre a fare clic sulla linea cardine, seleziono il comando per le impostazioni del piano personale e imposto timpano. Ora posso andare ad alzare l'altezza dei muri e far adattare le falde ai muri con la connessione. In questo modo abbiamo creato un tetto a mansarda con teste a padiglione. Vediamo come realizzare un tetto a farfalla. In questo caso la modellazione la possiamo fare in due modi. Il primo modo è quello di utilizzare lo strumento falda. Il secondo modo è quello di andare ad utilizzare lo strumento shell. Iniziamo con l'utilizzo dello strumento falda. Per quanto riguarda la modellazione andiamo ad utilizzare il metodo geometrico a piano singolo con la modalità rettangolare. Vado a individuare il centro di questo muro utilizzando una linea guida. Una volta definito il centro non devo far altro che andare a disegnare la prima falda. La prima linea che devo inserire è sempre la linea cardine per cui parto da questo punto arrivo fino a questo punto e faccio crescere la falda verso sinistra. Ora posso andare a disegnare la falda. La falda l'ho disegnata la vado a selezionare e sui tre lati esterni vado a creare un offset in modo tale da creare uno sporto di gronda. Nel mio caso il valore è pari a 60 centimetri. Ora per quanto riguarda la falda di destra avendo selezionato la falda di sinistra vado a richiamare il comando specchio una copia e vado a specchiare lungo la linea cardine. Visualizzo in 3d quello che ho fatto. Possiamo vedere che abbiamo creato un tetto a farfalla. Ora abbiamo la possibilità eventualmente di andare a modificare la pendenza. Dopo aver selezionato le due falde possiamo agire all'interno della paletta informazioni all'interno del box dedicato alla pendenza. Anche in questo caso per far adattare i muri alla falda vi devo andare a selezionare. Devo procedere con la modifica dell'altezza andare a selezionare poi le falde e richiamare il comando di connessione in modo tale da connettere i muri alle falde. Il risultato che otteniamo è un tetto a farfalla con i muri che si adattano alle falde. Vediamo ora un secondo metodo come ti ho anticipato all'inizio. Quello di andare ad utilizzare lo strumento shell. Vado a cancellare le due falde, mi sposto in pianta e vado a disegnare la shell. Per poterla disegnare già con gli offset vado a effettuare una veloce costruzione in pianta, seleziono lo strumento retino, vado a disegnare un rettangolo sulla perimetrale dei muri, seleziono il retino e vado a creare un offset su tutti i lati. Nel mio caso sarà un offset di 60 cm. Una volta fatta questa operazione vado ora a selezionare lo strumento shell. Come metodo geometrico vado a utilizzare quello a estrusione. Posso tranquillamente utilizzare un metodo di costruzione semplice. Vado a disegnare il primo lato della shell e poi lo sviluppo della shell. In questo caso avrò creato una volta a botte. Mi sposto in 3D, vado a selezionare la shell, vado a fare clic sulla linea di riferimento della shell e vado a selezionare all'interno della pet palette il comando inserisci il nuovo nodo. In questo caso Archicam non fa altro che andare a creare una shell completamente piatta. Ora non devo far altro che andare a individuare il centro della linea di riferimento, fare un clic e con il comando inserisci nuovo nodo attivo andare effettivamente a creare un nuovo nodo. Ora ho la possibilità di andare a creare il tetto a farfalla. Posso andare a spostare la shell magari verso l'alto facendo clic al centro e selezionando il comando muovi nodo ho la possibilità di spostare il nodo verso il basso e in questo modo ho creato il tetto a farfalla. Ora come abbiamo visto fare con lo strumento falda vado a selezionare la shell e i muri, tasto destro e vado a richiamare il comando connetti taglia gli elementi alla falda shell. Automaticamente come si fa con le falde anche con la shell i muri si andranno ad adattare in modo tale da posizionarsi perfettamente al di sotto della shell. Questo era un secondo metodo per la creazione di un tetto a farfalla. Quello che andiamo a creare ora è un tetto a due falde su una pianta AC. La particolarità sarà che le due falde che andremo a creare avranno due linee di gronda a quote differenti. Vado a selezionare il metodo geometrico multipiano e vado a selezionare il metodo di costruzione per creare un tetto a due falde. Vado a disegnare la linea cardine sulla perimetrale interna. Utilizzo una linea di riferimento in modo tale da andare a definire il punto in cui devo andare a chiudere il tracciamento della linea cardine. Parto da questo vertice e vado a disegnare in questo modo il tetto a due falde. Visualizziamo in 3d quello che ho fatto. possiamo vedere che il tetto è posizionato in modo tale che vado a coprire perfettamente la parte centrale. Ora non devo far altro che andare ad allargare solamente la falda. Per poterlo fare in pianta posso andare a selezionare il tetto. Non vado ad agire sulla linea cardine ma vado ad agire su il lato della falda. Faccio un clic e seleziono il comando offset lato. Mi sposto verso il basso e vado in questo caso a creare un offset pari a 30 cm oltre lo spigolo dove ho posizionato ora il cursore. Per cui vado a digitare 030 più e confermo con invio. In questo modo abbiamo creato l'estensione del tetto. Visualizziamo in 3d quello che abbiamo fatto. Ora devo andare a ritagliare questa parte del tetto in modo tale da farla aderire ai 3 muri. In modo che avremo un tetto che segue appunto la planimetria AC. Mi sposto nuovamente in pianta. Come puoi vedere i muri sono coperti però se vado ad attivare il sottolucido riferimento. Apro la palette del sottolucido. Sto andando a proiettare sotto al piano corrente. Ho la possibilità di rendere la parte attiva semitrasparente. Questo mi permetterà di poter visualizzare i muri che si trovano al piano inferiore. Ora non devo far altro che fare clic su questo lato. Andare a selezionare il comando sottrai al poligono. Parto da questo vertice. Vado a definire il rettangolo. E ora ho la possibilità utilizzando l'offset lato di andare a a creare l'offset di 30 centimetri sui tre lati che ho ritagliato. Visualizziamo in 3D. Come abbiamo già visto negli altri tutorial ho la possibilità di andare ad alzare la quota dei muri. Seleziono la falda e vado a connettere i muri con la falda. In questo modo abbiamo creato un tetto a due falde e come ti avevo detto all'inizio abbiamo le linee di gronda su quote differenti. Vediamo ora come procedere per la creazione di una copertura a cono. In questo caso possiamo andare ad utilizzare sia lo strumento falda e sia lo strumento shell con due risultati differenti. Iniziamo con lo strumento falda. Apro la finestra impostazioni. All'interno della geometria multipiano ho la possibilità di scegliere nei checkbox risoluzione curva la risoluzione per arco e per cerchio. Nel mio caso sarà per cerchio. Vado a impostare un numero di segmenti con cui Archicad dovrà andare a suddividere il cerchio. Vado a impostare un numero pari a 12. Confermo con ok. Ora non devo far altro che tenere premuto la barra spaziatrice e decidere se far adattare la linea cardine all'interno della perimetrale dei muri o all'esterno. Mi posiziono all'interno, faccio un clic e come possiamo vedere Archicad è andato a generare la copertura a cono. In questo caso il cono è composto da una serie di spicchi di falda. Anche in questa situazione ho la possibilità di connettere i muri alle falde e abbiamo ottenuto il tipo di copertura. Una cosa importante con questa tipologia di costruzione sta nel fatto che se voglio andare a diminuire o ad aumentare il numero di spicchi ho la possibilità di andare a modificare il numero di segmenti lungo il cerchio. Confermando con ok posso vedere che Archicad è andato a modificare sia i muri ma soprattutto il numero delle falde che compongono il tetto. Per procedere poi con la creazione dello stesso tetto utilizzando la shell vado come prima cosa a cancellare il tetto. Mi sposto all'interno della pianta, vado a selezionare lo strumento shell, in questo caso vado a selezionare un metodo geometrico di rivoluzione, tocco la perimetrale del muro e vado a individuare il centro del cerchio. Faccio un primo clic, faccio un secondo clic in modo tale da definire il raggio. Posso andare a impostare un raggio pari al raggio del cerchio oppure posso andare a inserire un valore più ampio. Una volta fatta la mia scelta e aver effettuato il doppio clic, Archicad è andato a disegnare una cupola. Vado a modificare la quota della cupola. Ora per poter ottenere la copertura a cono non devo fra l'altro che andare ad agire sulla linea di riferimento della shell. Faccio un clic e vado a selezionare il comando inserisci nuovo nodo. Automaticamente Archicad puoi vedere che va a generare una copertura a cono, in questo caso non sono spicchi. Seleziono muri e shell e vado a connettere i due elementi in modo tale da adattare i muri alla shell. Come ti dicevo abbiamo creato una vera e propria copertura cono. Possiamo anche andare ad agire sempre sulla shell, aprire la finestra impostazioni e anche in questo caso andare a creare una segmentazione, magari per cerchio andando a inserire un valore pari a 12. Confermo con ok, puoi vedere che possiamo ottenere lo stesso risultato che abbiamo ottenuto con le falde. Però in questo caso la shell ci permette anche di poter ottenere un vero e proprio cono. Vediamo ora come poter creare una copertura a shed in modo estremamente semplice. Anche in questo caso possiamo procedere sia con lo strumento falda sia con lo strumento shell. Lo strumento falda è molto simile al tipo di costruzione che abbiamo visto per il tetto a due falde asimmetriche, per cui non andrò a ripetere quel tipo di costruzione. Vado però a mostrarti come poter creare una copertura a shed utilizzando lo strumento shell. Per aiutarmi ho già disegnato delle linee tratteggiate che andranno a identificare per quanto riguarda le linee nere la parte più bassa della copertura, mentre per quanto riguarda le linee arancioni il colmo della copertura. Mi vado ad aiutare utilizzando una sezione che anche in questo caso ho già tracciato. La vado ad aprire. Come puoi vedere in sezione sto utilizzando il sottolucido riferimento che mi permette di proiettare la pianta. Questo mi serve per poter vedere le linee tratteggiate che ho disegnato in precedenza. Ora per andare a creare la copertura vado ad utilizzare per prima cosa lo strumento forma. Scelgo come metodo di inserimento quello poligonale in modo tale da inserire una polilinea tridimensionale che mi servirà come traccia per il disegno della shell all'interno della finestra 3d. Iniziamo con il tracciamento della polilinea. Parto da questo punto. Mi muovo in questo caso a 45 gradi fino a che non incontro la linea tratteggiata. Poi vado a disegnare il secondo segmento. Riparto con il tracciamento sempre a 45 gradi. vado a disegnare il terzo segmento. Vado a chiudere il segmento con l'intersezione tra la linea tratteggiata e il piano. Vado a disegnare il quinto segmento e vado a chiudere in questo punto. Doppio clic in modo tale da poter visualizzare all'interno della sezione la polilinea disegnata con lo strumento form. Mi sposto all'interno della finestra 3d. Come puoi vedere la polilinea che ho disegnato in sezione viene riportata anche all'interno della finestra 3d. Vado a modificarne magari la penna in modo tale da renderla più visibile. E ora andrò a utilizzare questa polilinea come traccia per il disegno della shell. Vado a selezionare lo strumento shell. Per quanto riguarda il metodo geometrico vado a selezionare l'estrusione però nel mio caso seleziono il metodo di costruzione dettagliato proprio perché devo andare a inserire vari nodi. Vado come prima cosa a definire il piano di inserimento. Posso farlo andando a fare clic su tre nodi della polilinea. Una volta definito posso procedere con il disegno del profilo della shell. Andando a prendere tutti i vertici della polilinea. Quando vado a fare clic sull'ultimo nodo, rimango fermo, faccio un secondo clic e ora posso andare a estrudere la shell. La vado a estrudere con un'estrusione pari a 9 metri. Seleziono ora la shell. La vado a ribaltare in modo tale che la linea di riferimento sia coincidente con la parte più bassa della shell. Ora non devo far altro che andare a selezionare tutti i muri e la shell e vado ad effettuare la connessione. In questo modo ho disegnato un tetto a shell utilizzando lo strumento shell. L'ultima costruzione che vediamo è una copertura complessa con una corte centrale. In questo caso andremo a disegnare un tetto su questa planimetria però faremo in modo che la corte centrale non abbia la copertura. Per poter procedere vado sempre a utilizzare un metodo geometrico multipiano con un metodo di costruzione copertura complessa. Le impostazioni del tetto sono quelle che abbiamo già visto. Confermo con ok e ora non devo far altro che andare ad utilizzare la bacchetta magica per inserire sulla perimetrale esterna la linea cardine. La vado sempre a far coincidere con l'interno della muratura. Faccio un clic e ho inserito la copertura. Visualizziamola in 3d. Ora non dobbiamo far altro che andare a creare un foro in modo tale da poter andare ad aprire il cortile. Però il foro che andremo ad aprire non sarà un vero e proprio foro ma faremo in modo che Archicad vada a coprire in maniera corretta i quattro lati dell'edificio. Per poterlo fare vado come prima cosa a selezionare il tetto inserito, vado a fare clic sulla linea cardine del tetto, vado a selezionare il comando sottrai al poligono e vado a disegnare il perimetro del foro facendo coincidere la linea cardine sull'interno della muratura. Al clic possiamo vedere che Archicad ha creato il foro ma in automatico è andato a costruire tutte le falde che in precedenza mancavano. Se visualizziamo in 3d quello che abbiamo fatto possiamo vedere che ha creato una copertura complessa. Ora non devo far altro che selezionare muri e falde e andare a creare la connessione tra di loro. In questo modo abbiamo ultimato la costruzione del tetto. Ecco questa era l'ultima costruzione che vediamo all'interno di questo video tutorial. Spero che tutte quelle che abbiamo visto ti possano essere utili per i tuoi progetti e per capire meglio lo strumento falda e in alcuni casi anche lo strumento shell. Se vuoi ulteriori informazioni nella creazione delle coperture in Archicad ti lascio qui il link della mia playlist dedicata proprio a creare le coperture in Archicad.